Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Siamo tornati qua oggi con un nuovo gioco. Oggi andremo a pulire questa casa. L'avevo già iniziata un po' prima e avevo tolto un po' di sporcizia. Adesso toglieremo tutte queste macchie. Dobbiamo togliere ben 55 solo in questa stanza, quindi sono veramente molte. Adesso diventerà... Dammi questa macchia... 25 25 su 255, dai buono buono. Iniziamo a togliere questo. Oh mamma mia... Siamo solamente a 33, ne dobbiamo togliere 55. E dobbiamo fare ancora 5 stanze. Quindi... Ok... Ce ne mancano ancora 15. Ok... Dobbiamo trovare le ultime 10... 10... Ok... 9... 8... 7... Ok... 6... 5... 4... 3... E dove sta? 3... Ok... 3... Ok... 1 sta qua... 2... Manca l'ultimo ragazzi... 99% siamo... Vediamo di trovarla... Oddio raga non riesco a trovarla... No... Non è neanche qui... Non è neanche qui... Vabbè ragazzi... Anche se ce ne mancherà una... Vabbè nello stesso anno ci dà lavoro completato... Andiamo forse in un'altra stanza... Ok... Qui... Raccogliamo tutto... Questo è semplice dai... Ah... Questo lo vendiamo... Anche se non vendiamo niente... Va bene... Eh... Vabbè... Togliamo questa spazzatura... Che questo è un luogo tutto sommato semplice... Ok... Anche questa stanza è stata fatta... Passiamo di qua ora... Alla cucina... Dobbiamo togliere le ultime due sporcizie... E poi... Abbiamo completato... Poi però... Dobbiamo ancora togliere le macchie... Ok... Vediamo se questi si devono vendere... Sì... E mettiamoci al lavoro... Ne dobbiamo togliere... 25... E sono molte... Ok... Mancano 20... E va bene... Farò... Ragazzi... Farò un piccolo taglio... In modo tale che così... Quando ho fatto vi faccio vedere... Tutto finito... Ok... A dopo... Ok ragazzi... Rieccoci... Tagliamo le ultime tre insieme... E anche questa stanza è stata fatta... Passiamo alla prossima... Oh... È un paradiso... Una stanza pulita... Due stanze pulite... È la prima volta ragazzi... Ok... Iniziamo a togliere questa sporcizia... Prima vendiamo queste cose... Tac... No... Beh dai... Armadio... Ah... Giusto... Questo non si toglie... Ok... Ecco l'ottima sporcizia... Adesso dobbiamo togliere... Sette macchie... Di... Sporco chiaro... Sei... E con questa sette... Andiamo in quest'altra stanza... Del bagno... Ok... Raccogliamo tutto... Se... E che cosa manca? Matto... Guarda... Adesso troviamo... Tagliamo queste... Tredici macchie di sporco... Cioè... Io questa me faccio a pulire... Ehi amico... Potete aprire? Ci riuscirò? Vabbè... Intanto puliamo queste po' fuori... Poi dopo... Ok ragazzotti... Se vogliamo entrare... Oh... Io raga... Non so... Come si apre... Raga... Non mi si apre... Vabbè... Quale sarà la quarta stanza? Questa... Questa l'ho fatta... Qua le altre stanza vengono... Qua no... Qua no... No... Questo è un bagno... Qua c'è un altro bagno... Qua non si esce... Qua... 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 Va bene ragazzotti... Vabbè... Anche... Non prenderemo il prezzo pieno... Però consigliamo... Il nostro lavoro... Invece di 500... E più... Prenderemo 478... Che ci vanno sempre molto bene... E prendiamoli... Torniamo a casa... Proviamo a comprare qualcosa... Sempre se sono capace... Perché... L'ho scaricato da poco... Questo gioco... Ah... Eccoli i divani... Io direi... Da prendere questo... Da 200... Soldi... Tac... Guarda... E noi lo prendiamo... Oh... Ah no... Quanti divani mette... Poi... Qua direi da metterci... Questo che... Ci posso mettere... Radiatore moderno... Dai raga... Ah no... Non ci va... Hello... Forse raga... Vediamo se ci vanno le casse... Ah no... Sono luci... Non so... Va... Sarà... Vediamo se qua ci vanno bene... No... Boh... Allora raga... Non trovo... Bisogna metterci... Ma questo fa parte del bagno... Quindi penso a niente... Va bene... Intanto abbiamo comprato il divano... E questo... Già... Non è poco... E il divano lo mettiamo qua... Poi io direi che... Qualcendo ci mettiamo un bel tavolinetto... Che l'avevo già visto... E... Il tavolinetto... Tavolinetto... Stava... Forse qua... Boh... Non lo so... Non lo so raga... Ah... Questo che è... Tavolino... Vai... Prendiamo questo... Uno solo... Il resto della casa lo finiremo da decorare la prossima volta... Per un prossimo video... Raggiungiamo i 5 like... E... Per un prossimo video... Raggiungiamo i 5 like... E... Ci diciamo gente...